Molti pensano che BackupAssist sia un programma di backup banale che vada bene solo per file e cartelle. Da oggi la tua percezione di BackupAssist cambierà per sempre. Con l'aiuto di un grande specialista, Christian Valeriani di Wizard, vedrai cose dell'altro mondo. Backup e Restore per immagini di macchine Windows. Backup di server Linux Ubuntu in ambiente Hyper-V. Granular Restore di file di macchine virtuali senza ricorrere a plugin. Pro e Contro di usare i scasi con BackupAssist. In meno di un'ora imparerai cose che se dovessi studiare e imparare da solo richiederebbero mesi di lavoro. Stiamo allestendo un laboratorio per farti vedere BackupAssist 7 all'opera con Windows Server 2012. Registrati subito, non te ne pentirai.